Io ho trovato dei dati sulla città di New York, quindi città metropolitana gigantesca, che faceva il calcolo di quanti ristoranti sono aperti nella città metropolitana di New York e quanto tempo ci vuole per provare ogni singolo ristorante a pranzo e a cena. Ah, cioè se io vado in tutti i ristoranti di New York, pranzo e cena, quanti anni ci vogliono per farli tutti? 32 anni, per 24.000 ristoranti. E quindi poi mi sono chiesta a Milano, invece, la nostra città, quanto tempo ci vuole, per 8.000 servizi di ristorazione, andando fuori a pranzo e cena ci vorrebbero 11 anni, quindi comunque è un bel po'. Non male, servizi di ristorazione, quindi c'è ristoranti, fast food, self service, tutto c'è dentro. Esatto, poi ovviamente questi dati sono da prendere un po', cioè con le pinze, perché come hai detto te ultimamente, però tipo ad esempio invece con l'apertura del Merlata Bloom si sono aperti tantissimi nuovi... Sì, erano solo lì, abbiamo visto che io sono 30, mi sembra stato del genere di botto. Adesso mi sfugge, però tanti. Una trentina così de botto, mi vorrebbe dire senza senso. Comunque, è interessante, di questi, quanti hai detto 8.000 sono a Milano? 8.000, sì. Quanti ne hai già provati? 8.000. Tutti 8.000? È da 11 anni che mangia fuori a pranzo e cena. È 11 anni che non... Allora, diamo una notizia, la famiglia di Viola, tranquilli, sta bene, è solo in giro a provare ristoranti. Esatto, se non mi vedono a casa è per questo. È per quello. Grazie. 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 Grazie.